Pital Press ha incontrato il mondo dello sport nella nuova redazione di Milano. In corso di Porta Vittoria, nel cuore del capoluogo Mennichino, il fondatore e direttore responsabile Gaspare Borsellino, insieme al direttore editoriale Italo Cucci, hanno accolto il presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, e il sottosegretario con delega allo sport della regione Lombardia ed ex olimpionico di Canoa, Antonio Rossi. Presenti all'incontro anche il presidente del CONI Lombardia, Marco Riva, il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, con il responsabile gestione e controllo, Edoardo Busala, l'amministratore di RCS e presidente del Torino, Urbano Cairo, la D dell'Inter, Beppe Marotta, il responsabile delle relazioni esterne della Juventus, Claudio Albanese, l'ex tecnico, oggi commentatore TV, Fabio Capello, il presidente di ACI Milano, Geronimo Larussa, il presidente della Lega di Lettanti Lombardia, Carlo Tavecchio, il presidente della Federazione Italiana Scinautico e Wakeboard, Luciano Seratica, il direttore della comunicazione di Milano Cortina, Andrea Monti, con Luca Casassa, il capo ufficio stampa della Lega di Serie A, Tiziano Mauri, il presidente della Federazione Internazionale Cinema e Television Sportif, Franco Ascani, la giornalista e conduttrice, Paola Severini Melograni. Non sono ruffiano, non sono diplomatico, sono molto diretto, io sono molto affezionato a Italpress, sono affezionato a Gasper, ovviamente a Itro, a tutti gli amici che lavorano, siete la porta verso il mondo e al tempo stesso siete un porto sicuro. Questa professionalità che si aggancia a quella sensibilità che c'è da Italpress, giorno dopo giorno, bisogna riconoscere. Sappi che lo sport e il comitato olimpico, Giovanni, mi sono veramente molto grati. Viva l'Italpress. Un'agenzia sicuramente molto, molto famosa, ma soprattutto un'agenzia puntuale, nell'informazione, corretta, che diventa anche uno strumento di lavoro per tutti, compreso anche i nuovi manager di calcio e società calcistiche. Per cui va applauso da parte mia alla direzione, a tutti i componenti dello staff e spero proprio che questo sia un esempio ripetibile anche in altre circostanze. È importante che ci siano diverse imprese che si occupano di comunicazione, che ci sia concorrenza e quindi si venga a sapere quello che succede in Italia e nel mondo e con la massima sincerità. Una voce autorevolissima, una serie di grande prestigio e evidentemente che attesta anche una crescita esponenziale che ha avuto questa agenzia di stampa che d'altra parte sa raccontare come pochi la realtà, anche quella sportiva e calcistica. L'organizzazione di grandi eventi, il lavoro e i risultati degli atleti è molto importante, ma è altrettanto importante chi racconta tutta la vita degli atleti, le imprese degli atleti e quindi sicuramente c'è tanto da fare, c'è tanto da fare assieme anche a Italpress. Complimenti, so che fate un grande lavoro, un lavoro di grande profondità, quindi insomma bene, il fatto che si aprano relazioni è sempre una bella notizia e quindi in bocca al lupo a Italpress che già sta facendo un buonissimo lavoro in tutta Italia.